Per chi ne giova insomma. Ai piani superiori sono state collocate ovviamente le camere, ai piani terreni i soggiorni, però non mi dilungo troppo sulla distribuzione interna perché era più che altro una verifica sull'utilizzabilità degli spazi. Queste sono le sezioni dove si può vedere il porticato che dicevamo prima che è consentito di creare, ecco questa è la sezione attuale del terreno, la creazione di questo portico ha consentito di creare questi giardini a est su cui poter collocare uno degli elementi architettonici per il recupero delle fonti rinnovabili che è quindi un primo pergolato fotovoltaico. Questi sono i famosi, quelli che ho citato prima, non certo famosi, orti creati da questi muri in pietra secco che quindi ben si integra col paesaggio. Su questa parzione di cascina dove avevamo da questo lato le gelosie in mattoni faccia vista, da questo lato dell'apertura è stato pensato di posizionare delle vetrate con antistanti dei brissolei in legno che quindi non lasciano le vetrate intere a vista dall'esterno, ma danno una copertura estetica. Oltre che funzionale. Questa era la prima versione in cui abbiamo provato a confrontarci con l'edificio, il nuovo edificio ad affiancare al finile, in cui avevamo pensato di posizionare queste vetrate con dei cavi d'acciaio e dell'edera che risale a creazione delle pareti dei due corpi. E il nuovo tetto in analogia al precedente ma con l'utilizzo dei pannelli solari. Queste sono le planimetrie interne dell'area benessere. Ecco, questa invece è la versione finale che abbiamo pensato per questo tema, dove nella porzione... Allora, il finile presenta le gelosie solo dal lato opposto. Noi abbiamo pensato di raddoppiarle sul lato interno per quel che riguarda il finile esistente. E per il corpo che gli abbiamo affiancato abbiamo previsto una copertura solare che andasse in analogia alla copertura a coppi, quindi la tipologia a tubo dei pannelli per il riscaldamento dell'acqua. E per le facciate laterali abbiamo pensato, per la chiusura dei laterali, abbiamo pensato all'utilizzo delle cosiddette vetrate fotovoltaiche, quelle in cui si riescono a inserire i quadrati fotovoltaici che abbiamo visto prima. Le abbiamo ripensate sfruttando l'immagine, l'icona, diciamo, della gelosia e quindi riproponendola pensando di riuscire a ottenere un effetto migliore di affiancamento tra la nuova tecnologia e l'esistente. Questo è il corpo che abbiamo messo nell'angolo lontano un po' per distanziarci dai corpi esistenti che consente di collocare la caldaia a biomassa e a cui abbiamo pensato di affiancare una piccola area a forno, cottura, quindi per il godimento del giardino da parte dei fruttori. Questo ovviamente era necessario fare un silo se abbiamo ipotizzato un'architettura che riprendesse il discorso delle gelosie che abbiamo detto prima e del mattone faccia vista. Questa invece è la copertura del parcheggio dove è previsto appunto, vedete questo è il livello del piano calpestio della parte abitata e questo è il piccolo avvallamento per collocare le autovetture e la copertura in pratica verrebbe percepita dall'esterno come una serie di pannelli quasi appunto a riproporre, l'ho chiamato orto fotovoltaico appunto per questo perché essendo a rasoterra mi dava questa idea. Questi pannelli ovviamente poi possono essere orientati differentemente a seconda del periodo estivo-invernale in modo a non farsi ombra l'uno sull'altro e a sfruttare al meglio l'inclinazione del terreno. Il fatto di averli messi in piedi è funzionale anche dal punto di vista estetico a questo richiamo alle coltivazioni, insomma ricoltiviamo l'energia come si dice. Questa è la foto che abbiamo visto prima del podere, ecco questa è una renderizzazione di quello che è la nuova soluzione prevista, potete vedere il terrazzamento che si è creato ad est del cascinale che ha consentito di costituire questo pergolato e il nuovo corpo che abbiamo inserito sempre con la finalità di confrontarci architettonicamente con l'esistente. Poi dal punto di vista realizzativo quello che ospetterà chi di dover decidere se sono cose... Poi dal punto di vista realizzazione di costruzione. 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 Grazie.